Allora, questa qua si chiama la baia della baracuda, come profondità 65 metri, chiamata così perché baracude quando mettono il loro ovo, vengono qui in questa baia. Perciò è chiamata la baia della baracuda. Alla fine di questa baia c'è la punta dell'orecchio, come abbiamo detto che il barco di Ras Muhammad assomiglia in testa di cammello. Cioè, allora alla fine di questa baia c'è la punta dell'orecchio e l'osservatorio anche dove si vede tutta l'area del barco. Perché uno dovrebbe venire qui? Perché ci sono io, un maniatore. Adolf Gabbard, taglia uno.